Allora, una cosa ragazzi, oggi abbiamo una partecipante speciale al gioco tira sulla traversa La Cri deve far gol, lo specchio è abbastanza grande, per cui lei deve far gol e io subito dopo devo prendere la traversa Tra l'altro con le scarpe adatte, le scarpe adatte Ce la fai a far gol? Mi spaccherò le dita di credito sicuramente Ah, ma rinporta Dai, Mario è scarso il porto tanto Non ce la faccio con questa, dai Hai fatto gol La missione l'ha portata a te, tocca a me, a piedi nudi, perché A piedi nudi perché queste scarpe la vedo veramente male Vabbè, con queste non va bene Però il goletto ve l'hai piazzato La domanda, tu l'avrei tirato anche giù Sì, ma tu non l'hai parata Traversa, ragazzi, io ci credo Ok, dai Missione Vai che passa la macchina Su BAM Finestrino Finestrino aperto Traversa, ragazzi Che c'è, porca troia? Anche i piedi nudi Però è un po' culo, vero? Un po' culo, eh Eh, sì E' un po' culo, eh Quindi è